Siamo pronti, quindi Carboni a servizio, arriva di servizio out, sulla seconda, in sicurezza, vicio, alzo un palloretto, vicio, altro palloretto, vicio, vante il carro sul lato, vicio, da difesa all'attacco, protegge la rete molto bene, Simo alza un palloretto, altro palloretto, Simo interviene nell'angolo, Carboni cerca di tirarla su, guarda che però non si alza. 0.15 Prima di palla out, seconda in sicurezza, rovescio nei piedi di Simo Gotti, che poi viene avanti, belle palle però di Carboni, grande risposta in poi, a due mani di rovescio di Simo, che poi aggredisce a rete, molto, molto aggressivo, molto cattivo, Simo. 0.30, vicio, alza un palloretto, Carboni, altro palloretto su Simo Gotti, che cerca un angolo troppo, troppo stretto. 15.30 Credo che vi accetto, ancora cerca un palloretto, Simo nella parte di conflitto, zona di conflitto dei due giocatori, poi avanzerete ma affonderete, quindi 30 pari, vicio, alza un pallonetto, rimane in campo, Carboni, bella soluzione sul rovescio di Simo Gotti, 0.30, ho minazzato un pallonetto ma lungo. 0.30, posso? 0.30, vai, vai, prego. 0.30, è arrivato anche il nostro mito di quali era Masio, che da commentatore, da aiuto regista da fuori. 0.30, io sono un bevitore di birra, io sarei vinto il quattro per i doppi falli dagli avversari, ma nessuno me l'ha pagata, anche povero. 0.30, quindi è andata così. 0.30, vogliamo dire però ai telespettatori che la partita migliore è Stefano Negri sull'articolo. 0.30, lo Stefano è proprio la partita in se stessa, proprio lo spettacolo puro. 0.30, sono passato per prendere la birra e ha tirato un po' di me, sono tornato da pesa a pesa. Eh beh, grande difesa di Carboni, bravissimo. Mi ha detto che è molto bravo nelle difese. Sono due che durano poco questi tipi qua. Carboni veramente molto bravo nel correre in avanti, nel leggere traiettorie. Siamo qua, viene bucato al centro, però poi recupera palla molto forte. Attenzione, 0.30. 0.30 nel primo set, una 0 per Isco Carboni. Vincio al centro. Carboni alza il paronetto, che però tocca al vetro laterale. Sì. Hai visto? Sì. Quando c'è i Mac di 2.000 euro, le cose funzionano molto meglio. It's go! Alza il paronetto di copripa rete. Ah, arrivano in due, toccano successo qualsiasi cosa. Arrivano in due, però tutte e due tocca alla rete e poi al recupero. Sembra addirittura che dovremmo guardare prima di R3 perché sembra addirittura che hanno toccato tutte loro. Esatto. Ho fatto una double proprio. Carboni al centro, tocca al nastro, Massimo riesce comunque a metterla di là. Alza un paronetto di Licio su It's go, che non spinge. Altro paronetto bellissimo di Licio nell'angolo. Simo cerca parete e parete, ma difende molto bene Carboni, legge molto bene. Bravissimo. Ancora, stavolta con l'aiuto del laterale, poi Simo accorcia sempre più. Penso che stia aspettando la palla giusta perché tutte e due corrono come del mio. No, tanto. Non diciamo come che cosa. Come di giocatori di cance. Ancora sui chiari quelli da Basile. Carboni al centro. Simo vanno da... Però difende ancora Carboni. Cerca It's go in sospensione, grande palla. Simo anche lì la mette su lungolinea. Belle difese, è uscita di parete di Simo molto forte. E comunque, adesso stiamo guardando dal telefono, guardarlo con quei risultati di... Tutta un'altra storia. Ha proprio una roba. Lo ho scritto ieri. Ehi, ma vedi come riusciamo a leggere bene la cellula. Killer Point però adesso ha vinto da Killer Point, vinto dalle Cine e Godi. Carboni non riesce a difendere questa palla. Perché è quello che si può fare secondo schermo. Non c'ha le prese. L'ho visto quello giusto che ha le prese. Dove se comprare il tocchino. No, puoi prendere un tocchino stesso. Sì, sì, però quello giusto di PC che servirebbe a noi. 2236. Ah, faccelo un... Regalo! Pazzaruga! Sei pieno di soli! Ragazzi! C'è una cosa tipo... Sì, sì, non è nostro. Ah, ok. No, è... È un supporto esterno momentaneo. Regalo! I carbonini cambiano di posizione, Simo, però spara questa palla fuori. Molto precisi. In questo caso giocano meno alla radio. Giocano molto blando. Senza forzarne anche la palla. Cioè, giocano molto... Chiaramente ringraziato l'organizzatore della serata che mi ha trovato un compagno fantastico. Ha, 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 ha. Il picio alza un pallonetto un po' corto. Izzico però lo spinge. La tira addosso al liccio. E rostro questa volta. Anche l'altra mi sembrava andasse. Avesse una tradizione un po' strana. Però era andata dritta al petto del liccio che l'ha presa al duro. La seconda invece la va a sclamare. è andata dritta fuori. 15-30. È il servizio di Izzico. Alza un pallonetto. Izzico ancora cerca forte sul liccio. Poi alza un pallonetto. Il liccio difende molto bene. Quindi Bandeca ancora verso Izzico. Sempre sulla diagonale destra. Poi Simo cerca di intervenire. Bellissima difesa di Carboni. Ha un altro numero incredibile. Giro di Izzico in difesa. La uscita di parete del liccio. Bellissimo dettaglio. E questa non è difendibile però. Bellissimo punto. Grandi difese di Carboni. Ci ha fatto vedere già un twinere. Manca bestia. Un twinere è un altro bel numeretto. Diciamo che in teoria la coppia è di là. Il liccio dovrebbe essere favorito ma in realtà non è. E insomma non dica tanto. Devono stare comunque attenti a come giocano. Tutto perché. Ah però qua fuori. Stai diventando un preveggente anche te al contrario però. Stai dicendo. Stai dicendo. Stai giocando bene. Stai giocando bene. Stai giocando bene. Stai giocando bene. No stai giocando bene. C'è non solo cornotata. Atleticamente si vede già. C'è andando alle gambe che. Meno male che mia moglie non è qua stasera. Ciao commentatori. Calciatore di livello qua. Si è Enricchi. Come terzo giocatore di livello manchi solo tu. Mano dei pedra Enricchi. Eh aveva. Lui ha la bestemmia di livello. Tra l'altro Ricky. Cioè. Oltre ad essere giocatore di livello. A calcio. Questi sono sei tempi di sera. Potevi venire a giocare come Ricky. Che ha passato un livello. Oltre ad essere giocatore di livello a calcio. Sono anche dei. Dei ottimi giocatori anche di padel. Ci fa lunga. Ci fa lunga. C'hanno una pazienza di quelli allucinanti. Perché. Carboni se la ride. Quindi. Ritorniamo sul campo. E poi sono gentili. Qua volta padel l'ha visto prima di noi. Esatto. Simo. Grande bordata. Di Simo. Palla alta. Bordata incredibile. Palla che si alza altissima. Indifendibile anche per loro. 15-0. Palla di servizio. Carboni. In rovescio. In pallonetto. E Simo. Quattenta. Un po' piuttosto complicato. Anche perché. Erano qualche aree molto veloce. Non ho trovato molto senso. Palla alta. Non voleva forse trovare in contropude. Isco che avanzava ma. Alza un palloretto. Simo. In croce. Questa invece l'ho trovata molto bene. Bellissima. Tecnicamente. Tatticamente. Perfetta. Tanta roba. 30-15. Seconda di servizio. Uh. Ed è una prima di servizio. Praticamente. Quella di Simo. Però. Fa un'ottima cosa a servizio. Poi una brutta cosa successivamente. Perché. Pallonetto molto lungo. 30 pari. Simo non tira un servizio. Cioè. C'è proprio due compagni che tira. Uno servizio è una bomba. Qui c'è. Con molto spin. A side swing. E qua. Il gioco non riesce a far passare. Ed è Simo molto piazzato. Che cambia molto il peso. La palla è cosa legge l'avversario a dover. Metterci un po' di braccio. Eh si. Il servizio giusto per Negri. Ecco vedi. Pallonetto è una risposta. Però palla che va fuori. Palla che va fuori. È molto difficile da difendere. Il servizio lento è facile. In realtà. La palla. Tende a morire molto presto. E quindi. Devi fare il passetto in più. Ti trovi già fuori posizione. Però ne trovi. 3-1 per Licinigotti. Bella risposta. In pallonetto. Licinigotti rimane indietro. A difesa. Del Fortino. Rizko. Cerca di spingere il suo diagonale. Poi il bel angolo di Carboni. Prossimo c'è. Ancora Carboni. Che blocca questa palla. Di Simo. Uuuu. Questa però. Un cioccolatino di Simo Gotti. Eh si. Che mette un rovescio tagliato veramente. Non sono grade. Complicato. Perché premiano tanto questi. Sono abbastanza... Alza un pallonetto. Poi il Carboni cerca di spingere. Palla che non esce. Bella palla di Simo. Ottimo. Ottima palla in difesa. Palla che non è uscita di... Tanta roba. Grandi leggi del paddle. Non fai uscire la palla. Non fai uscire la palla. Non fai uscire la palla. Anche perché l'ha tirata sfiorando anche la reda. 30-0. Cioè 0-30. alza un pallonetto Simo Isco Isco ancora al centro balle un po' un po' lente si riesce a girarci attorno questa palla molto lavorata palla che poi esce fuori di Isco 0.40 momento di difficoltà al servizio Carboni già avanti 3-1 Isco al centro alza un pallonetto Carboni la insegue e mette una bellissima palla nei piedi sono molto bravi sulle palle con peso invece fuori infatti il Licio ha delocato senza peso esattamente infatti vedi fanno sempre questi appoggi anche questo è un appoggio nell'anno cercano più la traiettoria palla che va fuori di difesa di Isco adesso mette i Veccaldi sta pregando Simo alza un pallonetto palla che esce fuori molto lunga per cui tre palle break annullate killer point si gioca sul Licio ci arriva con l'ultimo pezzo della palla poi qua però palla bravissimo Carboni bravissimo bravissimo bellissima palla molto intelligente Simo che si era già portato avanti tutti e due Simo si era già portato avanti e quindi difendono il servizio Simo questa palla però esce fuori i Carboni sono 3 a 2 per Gotti di Cine primo si Carboni molta calma anzi quest'altro pallonetto no look altro pallonetto di rovescio palla che però traiettoria che va fuori c'è molta 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 pazienza anche no perché Simo la piegge va bene va bene la pazienza ma c'è una palla diciamo che da lì una tira itco a inseguire la palla indietro cerca una palla forte al centro Simo interviene al corpo di Carboni e trova poi un pezzo di grata infame per cui 4 a 2 ciao Kri diciamo che tatticamente trova molto sì molto vabbè però ci vale molta pazienza e non affrettare perché se no Carboni all'inseguimento va ancora su Simo che piazza questa bellissima palla grande difesa di Carboni ancora itco cerca a lungolinea Simo rallenta poi palla nei piedi di palla nei piedi di del licio palla nei piedi del licio bravissime bella questa stessa del punto seconda di servizio alza un paletto molto alto che rimane in campo di Simo Cotti può gregire Itzco palla che si incarta e l'Icio quasi che fa una sgrattugiata infame della palla so che mi manca perciamissimo che la San Teodoro grande Enrichi Radicella e se noi ragazzi sono c'è anche Enrichi che ci saluta Radicella 4 a 2 ciao qui Carboni Itzco e 4 a 2 no no ci saluta Enrichi Radicella di come sta ah già giusto di come sta Enrichi hai recuperato Itzco su Simo che la rimette al centro molto tagliata un altro pallonetto molto alto del Simo usare i pareti di carbone ancora cercare i gotti poi al centro gotti sempre presente al centro qua cerca una palla corta che fa la tutta molto alta e Carboni riesce a trovare lo spiraio e riesce a trovare lo spiraio 40 a 0 Simo ha preso una palla che i normali umani non ha giocato con la lunga linea con la lunga linea super strettissima siamo a San Sant'Alessandro non c'entra niente lo San Teodoro è Sant'Alessandro sti cazzi scusa Radicella facciamo il contrario del buon San Teodoro vi ringraziamo per questa comunque chi volesse perdere qualche partita basta che mi contatti però vi prometto ti senti lo vincete lo stesso perdono perché giocheranno con te certo perché lo vincete no no capiamo certo che giocano insieme ascolta ma tu da vicino il buco della porta no da fastidio da fastidio da fastidio a me da fastidio un altro vai niente Radicella mi sto ricaricando e la voglia di ostiare contro i vieni mi manca giusto perché si gioca per quello non per altro gioca con me che vedi che te la faccio tornare subito in 5 minuti l'ospite è un riscaldamento vai sereno alza il paletto Hitzko molto alto Simo deve stare dentro la traiettoria e si rischia di far proteggere e poi trova la grata molto bravo molto intelligente molta pazienza molto intelligente Simo mamma mia bravissimo ancora Simo incrocia Hitzko però scende giù con le ginocchia molto bene ha ancora carboni da sottoterra ecco le ginocchia lo scende e qua forza la lunga forza Simo però scendono con le ginocchia veramente se hai inzito che poi ha tirato una corsata che devi tirare forte lì sennò è stato bravissimo scendono veramente tantissimo e ha fatto ha fatto tiltare si ha tirato uno smash che era un po' un po' doppio fallo mi sa birra per i commentatori grazie doppio fallo la ricerca la ricerca estrema del servizio comunque complicato Simo nell'angolo Carboni cerca di difendere palla veramente molto molto bassa devo dire che Carboni difende molto bene di dritto di fatica sul rovescio basso ma sul dritto basso veramente è una sentenza accelera Izco e qua invece accelera al giusto invece si ha tirato veramente una gran bordata Izco non è riuscito ad imprimere tantissima potenza Izco al centro alza come detto il liccio sempre su di lui si gioca sulla diagonale destra contro parete alza un pallonetto molto alto Simo spinge questa vibora si vede che per me sono abituati a giocare all'aperto perché tirano dei pallonetti veramente altissimi sia Izco che Carboni che bella cittina ma la tira ma mia pallonetti atti che ho visto ieri sera a Brescia veramente sono una roba diciamo che ieri sera ha giocato Samatro Scars si proprio e l'ebrella palla di Simo grande difesa ancora se lo devono se lo devono sudare appunto madonna eh sì devono fare veramente scambiar tanto per trovare poi il barco però 030 il liccio alza un pallonetto Carboni al centro poi circa stretto che rimane in campo bellissima palla di Carboni però Simo è veramente con il naso sull'arete eh sì perché tira delle cichite molto 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 belle e se non sei lì sei lì verso Isco alza un altro pallonetto con molta calma poi vanno dritti dritti a rete bella difesa su una grama palla del liccio ricordiamo Mancino per cui rotazioni tutte diverse angoli diversi bello scambio a rete il liccio alza Isco sul liccio ancora con molta si ricomincia Biccio cerca al centro di sfondare poi fa un pallonetto Isco c'ha quel pallonetto altro pallonetto che è mostro Biccio cerca forte al centro d'incontro e poi passa al Simo con una gran palla di dritto ma scambi veramente lunghissimi molto lavorati questa palla qua meravigliosa eh sì è uscito è uscito di dritto ci ha fatto tutto il lavoro per aprirli per fare Simo al centro Isco c'è poi aggredisce la rete grande difesa ancora di Carboni di dritto al volo Isco lì può spingere chiude nell'angolo bravissimi bellissima comunque partita molto molto avvincente grandi scambi però primo set è portato a casa da Simo che sta dei sospironi perché non stanno passeggiando di livello alto giocatori che non penso che adessano di passeggiarsela perché non lo credo proprio qua mi mette un pochino un pochino un po' meno il punto lo devono proprio giocare cioè loro di là te la buttano in qualsiasi modo e devi proprio farlo il punto sì 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 devi lavorare tantissimo tutti lo regalano gli avversari questi due avversari non regalano niente e appena sbagli qualcosa sono già lì attaccati in modo praticamente curioso ti costringono veramente a sprecare tantissime energie per fare il punto e qui inizia si conoscete a servizio liceo Isco alza un altro pallonetto molto alto 18 ma nel caso di lui la palla può essere aggredita molto lavorata la Simo adesso però prima lavora poi picchia come un fabbro 12-0 ancora il Simo però Carboni c'è bravo e qua c'è i commentatori hanno rischiato praticamente la morte Simo ha cercato di venirci in bravo questa palla quasi la difende quasi la difende scatto veramente fulmino in avanti palla che non viene trovata mentre si chiamano Stefano che continua nonostante tutto a quando dal 1934 e Simo altra palla mamma mia che cattiveria c'è delle bastonate tirando di Simo se ti prendi a cercare quel dio lì che sei con la mezza altezza davanti queste sono quelle palle che fanno come un tantello diciamo che fa un po' meno male su 40-0 Simo chiesa la ride palla che però vale 15 e vale il primo che è il secondo set 1-0 lì ciligotti servizio Isco cerca di spingere nei piedi bravissimo è bravo Isco sembra che a me c'è un palla che ha trovato ce ne tendono molto a tirare sui piedi di Isco sì ma penso anche in generale non solo a Isco quando sono a rete bloccano e basta spingono gli avversari tirano forti da fondo a campo per cui tengono sempre lì la nuova vinto nice adesso adesso stai in campo fin quando non mi crepi vai a fare il culo no è finito chi vuole giocare giocare vai a fare il culo quindi Negri ha vinto il torneo ha vinto il torneo come voleva si dimostrare il tabellone era falsato perché abbiamo perso sui 4 7 6 con la copia più forte del primo turno che infatti ha perso subito al secondo sì capito chi se ne fotte non importa questi come sono? qua se la magari con te se la possono giocare ma non ne sono come c'è cosa gioca Isco? eh giochina eh uh grande di attesa ancora di carattoni allora sono i giocatori che ti mandano eh eh palla bravissima palla bravissima grande difese ecco questo è quello se vuoi giocare tira dentro 2 40-0 no veramente eh bella palla nel Simo sulla lungolinea Niccio cerca ah cerca poi una cichita che non passa per cui uno pari in scopo 7 grandissimi grandissime difese scusate scusate questa interruzione è venuta da Nigri che è venuto a se no come hai fatto bomber come Paolini no sei in diretta ti arrivano e dicono no perché io simo vibora nell'angolo giro contrario invece mi è arrivato Nigri che ha tipo il coito interrotto però fa l'influo ha fatto il giro contrario questa vibora indiferibile siamo ancora nell'angolo è la vibora dell'angelo quasi ancora riesce la difesa ancora di Carboni mette la palla sotto Izco dice quello che dobbiamo fare non lo so neanch'io quindi simo ancora nell'angolo piatta Izco aspetta molto bene si abbassa molto bene ancora ricacciato indietro Izco che alza il pallonetto poi aggredisce a rete molto veloce Carboni cerca il simo cerca il corpo del simo lo trovo anche bravi che sono praticamente sono di un ordinato spaventoso oh si è impazzito ancora non li ho finiti oh scusami lì c'è lì c'è il campino per la legge che ci posso fare ho appigliato questa ammessa di che ho visto arrivare qualche orte 40-15 alza un bel il pallonetto Izco dicevo guy sono per me abituati a giocare all'aperto Carboni Izco per prendere i pallonetti che vanno su a campanile ma è una roba simo ancora sui Carboni alza un pallonetto e poi aggredisce a rete Izco anche lui lo segue a rete vengono ricacciati indietro simo cerca l'angolo bellissima palla del simo però devi fare il numero così per fargli il punto se no 2-1 nel secondo set bisogna lavorare tantissimo quello che dice anche il licio lavorare 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 servizio Carboni che gira su simo che alza un pallonetto molto alto bellissima palla di Carboni bellissima palla di Carboni a beffare il licio che sta venendo avanti servizio questo è un 10 se entra questa parliamo Carboni su Simo che ha toccato l'avanzamento ha tentato due volte di avanzare ma due volte Carboni ha messo la palla nei piedi 30-0 licio su Izco che la rimette palla corta di Carboni che trova la grata Simo controlla bene la traiettoria si espumono le Carboni che però l'unica cosa che non hanno è quello non hanno il colpo risolutivo il colpo cattivo vorremmo mettere un po' di gialli uvotti un pochino un 10% perché se lo dopo diventa un problema esco al centro licio alza bella palla bellissima palla di Izco al centro giocano tanto di tocco di traiettore e riescono sempre spesso a trovare la zona di conflitto tra i giocatori tra Licini e Gotti due pari due pari mi seguono sa giocare praticamente bene anche se non spinge come loro con i due super ostici i cerotti se la giocano si mance il centro Carboni cerca di spingere poi Simo dalle cittite che ti ha questi sanno giocare a panto Simo qua l'angolo un po' troppo acuto bella palla grande difesa qua di Carboni il sbancorano qualsimo cerca che non ha portata non so se avete notato ragazzi stasera abbiamo un sergione anche insegnante di geometria con l'angolo un po' troppo acuto di tutto di tutto e di più nel commento ormai hai visto mi sono messo in onore tu in Black ma in vero blu scuro Black dipende varia un po' il palla lì c'è uscita di parecchie forte su Carboni che difende molto bene che blocca molto bene Carboni ancora nell'angolo ecco eeeh palla bruttissima di vendere un atturricato più che la potenza cerca sempre queste palle sì però 40-15 40-15 30 pari 30 pari io avevo fatto 40-15 però 30 pari allora 30 pari e santinelle faccio il primo se tra ah ok perché ho dato il coso io qua Simo picchia appena appena ok sai devi stare un po' più attenti perché se no gli argentini ci mi pestano qua si sbaglia un'altra volta il risultato stavolta è un 40-30 giusto alza pallonetto Simo incrocia alza tornato pallonetto Simo e tira una bordata che questa va proprio a Catanzaro stavolta ci siamo tra due abbiamo riuscito a prendere l'angolino giusto che è fatta decollare questa palla qui sono 6-3-3-2 pernicio e Simo però senza servizio senza break e ma bella partita si gioca qua si scambia tanto servizio carboni sarà la seconda di servizio perché palla poi a seconda rimbalza uscita è appunto nostro carboni amici alza un pallonetto su Isco che incrocia sulla grata il Licio riesce a difenderla comunque forse grazie a tutto deve essere mancino che ha adottato a metterla su ah ok si rifa perché c'è la palla dietro i giocatori eh sì pericoloso molto pericoloso ciao bella vita ciao bella vita Andrea che è che fai una bella vita qui tutti a santi odoro bella vita cazzo noi siamo qua in mezzo a rusco bellissima palla del licio bravissimo ciao Andrea siamo qua al caldo gli altri sono al mare noi facciamo la bella vita vitale out 6361 dove sei stavolta Andre sei dove è formentera ma la città fuori l'inizio è pericoloso su adesso prende la palla anche da da due ore adesso come ha messo il gesto perché l'inizio sul lungolinea si morbicchia molto forte poi si fa superare questa palla che poi lo beffa a casa oggi c'era in moto bravo bravo non vuole partecipare ai tornei Andrea no troppi tornei qua Andre bisogna dividersi se si fa i tornei c'è il tuo socio inbe che sta giocando però 30 pari Andrea gatta it's go uscita di parete licio blocca poi vai di pallonetto licio si fa un becca verso verso questo e qua l'ennesima difesa entra il simo e picchia fortissimo quindi due palle del break bella la difesa pallonetto che tocca il sostegno ci hanno provato a un giro però sono soliciti a perdere il sostegno che sono 9 metri una roba del genere poi troppo alta palla pari killer point prima palla break fallita perché simo ha tirato un pallonetto che è andato circa la palla cortissima troppo corta però 4 a 2 4 a 2 servizio per per i cinigotti alza pari tu isco sul licio che difende l'incontro parete e poi è sulla traiettoria licio ancora su isco molto di lui poi si cambia su Carboni Simo con molta calma licio può punire di Polediro che è un paizzo difesa molto lunga palla che va dritta dritta fuori 15-0 palla al centro questa è una sbananata grazie Simo che così almeno mi fai capire come si sbananata volete giocare con me a vedere questo tipo di numeri volete giocare come Simone Gotti potete farlo la sbananata esatto e qua Carboni entra per i grandi difesa del Simo licio un'altra difesa incredibile inizio cerca di spingere sulla diagonale altro pallonetto Simo la sbibora nell'angolo una palla pazzesca una palla pazzesca volete giocare come me guardate l'azione di prima non questa esatto una clip su come giocare la sbibora vincitore negri ha vinto e tira insieme a due dai c'è c'è Carboni c'è il risaccio alza un pallonetto Carboni chiude e Simo può difendere alta difesa sulla palla molto alta bellissima palla ma Carboni difende contro parete blitz di cotti sta difendendo Carboni allucinante non scende una palla ancora al centro Simo si allunga licio entra nello scambio infatti miocardici ancora Carboni di difesa poi si con la lunga tira una gran bordata però bravissimi grandi scambi grandissimo scambio Carboni ha difeso l'impossibile veramente ha fatto delle robe in difesa ha anche tirato un sospiro come per dire va forse ha fatto anch'io fatica licio appoggia la palla intelligentissima 5 a 2 si perché era stanco anche da prima e quindi si si l'ha fatto trottare l'ha fatto trottare mica male povero zecchia il camone fa tutto il campo a destra e a sinistra 5 a 2 nel secondo set è alzato un pallonetto Izco la gira ancora sul licio ancora Izco licio cambia su Carboni dietro mamma che bello Simo nel frattempo è venuto a rating e può si vingere Carboni dipende come può e si alla lunga alla lunga Gotti prende in possesso e alla lunga furia di difendere con le spalle verso l'avversario alla lunga Simo avanza soprattutto con questi controparenti non riescono a gestire i controparenti sono tutti corti e quindi Simo ha veramente cioè col braccio che ha col suo braccio col suo sì ancora al centro Simo palla che passa ancora pallonetto Carboni sempre su Simo che pallonetta dietro però molto lungo palla molto lunga 15 pari poi mica punto cercare per forza quello al centro Simo ancora più dritto verso Carboni che spinge ancora in quell'angolo ancora una volta Simo altro pallonetto un po' falloso sul pallonetto leggermente lungo che cerca il pallonetto sulla parallela ho visto anche un licio schizzito da questo pallonetto sbagliato il pallonetto sulla parallela ovviamente c'è più spazio sulla diagonale è meno facile di quanto si passi perché è comunque un'aglia la malacrisce fuori al volo e qui si va sul match point perché qui due match point cioè sai sul Simo gli gioca la prima palla la seconda palla la terza palla la quarta la palla la peso il pallonetto non è possibile l'angolo l'angolo sul licio però viene ricacciato indietro il licio ancora su l'isco che alza un pallonetto ancora l'isco cerca la soluzione brava l'isco finisce qui la partita